va buono va buono hai già appassi hai già appassi appassi hai già appassi ok che maschio sei tu chi è? come mai l'hai portato con te? il suo ruolo mi spieghi qual è? non volevo sconcarci da sola perché lui tu chi è? tu chi è? è difficile farlo con te lui chi è? lui cos'è? lui com'è? e di scanto per certo un po' troppo per me tavolo lo sai una foto un po' più normale qual è l'eventualità? tu guardi una collocazione ora spiegami dai l'atteggiamento che dovrà cantare metti il mio schede e il mio baglia tuo amare lui cos'è? lui cos'è? lui cos'è? Danielo, lui chi è? Lui chi è? Lui cos'è? Lui cos'è? Lui com'è? Lui è difficile fare con te, ballalo! Il triangolo non l'avevo considerato, d'accordo ci troverò, dal giorno del piano che ho legato, garantisci per tu, per questo uomo non particolare, per i ragioni che lei, ma il triangolo io lo ripare. Lui Erin! Pugli! Mi apposa Giannini, il ballerino!